Musica Ad accogliervi sarà Conegliano Bentrovati al meteo L'area di bassa pressione che ha toccato il nostro territorio si sposta verso le Baleari permettendo così un deciso miglioramento del tempo Il dettaglio di martedì 8 settembre Sul Veneto prevale una circolazione leggermente anticiclonica tornano perciò a prevalere le condizioni di stabilità con ampio soleggiamento su tutte le province e cielo sereno o al massimo velato non sono attese piogge degne di nota Temperature in lieve aumento minime fino a 18 gradi valori massimi compresi invece tra i 24 e i 27 gradi all'incirca Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia dove avremo più o meno la stessa situazione con sole prevalente, tempo asciutto e stabile con cielo sgombro da nubi Temperature minime tra 15 e 18 gradi massime sui 26 gradi all'incirca Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige e sempre tanto sole ovunque qualche addensamento sui settori di confine ma senza ulteriori conseguenze Temperature minime sui 14-15 gradi massime sui 27 gradi Dal Meteo per ora è tutto io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3 Arrivederci Ad accogliervi sarà Conegliano Grazie a tutti